Sono i sospesi alla COGIFRI, vorremmo che rientrassero a lavorare, hanno fatto uno sciopero legale e l'hanno sospesi, non si sa bene perché, e adesso ci sono altri lavoratori, comunque sia, che prendono il loro posto, vorrebbero rientrare a lavorare tutti, non dieci persone, due persone, tutti. Dov'è il presidente della COGIFRI? Fate uscire il presidente della COGIFRI a parlare. Abbiamo 15 sospesi, ci sono 14 persone dell'SGB, 14 persone che vogliono tornare al lavoro.